Sette in tutto i gruppi polifonici della provincia di Salerno che la settimana scorsa si sono esibiti in una serata all'insegna di canti natalizi nella chiesa Santa Maria delle Grazia ad Agropoli. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Silesia, nelle persone di Nunza Germano, presidente, e Paola Tozzi, direzione artistica, che dopo tanto lavoro sono riuscite a trasformare una serata come tante in una splendida esibizione corale. L'iniziativa è stata resa possibile anche grazie alla disponibilità di Don Bruno Lancuba. La serata, che è stata registrata su Telesalerno 24 Web TV, verrà presto mandata in onda. La manifestazione rientra nell'ambito del programma di appuntamenti natalizi organizzati dall'amministrazione comunale di Agropoli, retta dal sindaco Adamo Coppola, e resi possibili anche grazie a tanti commercianti della cittadina. Quest'anno il Natale Gentile ha visto tante novità, che, soprattutto nei weekend, è riuscito ad attirare numerosi turisti provenienti da più parti. Boom di presenza in particolare presso la Casa di Babbo Natale, che è stata posizionata presso il Castello Angeno Aragonese di Agropoli, dove i bambini hanno potuto trascorrere momenti piacevoli in compagnia di Santa Claus e degli Elfi.